Buongiorno a tutti. Domani, 23 maggio, è l'anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita il Giudice Falcone, sua moglie Francesca Amorvillo e gli agenti della scorta. Purtroppo, per l'emergenza che stiamo vivendo, domani non potrò essere a Palermo, come sempre, e mi dispiace molto, però ci tenevo a rilanciare l'iniziativa della Fondazione Falcone e quindi invito tutti i cittadini ad esporre un lenzuolo bianco dalle loro finestre e dai loro balconi. Lenzuolo bianco, simbolo della volontà del cambiamento della Sicilia e del nostro Paese e simbolo della legalità. E ci serve anche esprimere un grande ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che in questo momento stanno lottando contro un'emergenza terribile. Quindi ringrazio tutti voi, ringrazio gli operatori sanitari e ci vediamo il prima possibile.